E allora andiamo avanti perché abbiamo un ospite in studio, ospite si fa per dire perché in realtà questa è casa tua Massimo Profeta naturalmente parliamo di sport, parliamo di calcio, parliamo di Serie C e quindi cominciamo dal Pescara e poi ci darai qualche news anche sul Pineto e allora tanto Merola e poi anche Zeman Sì, intanto direi a partire proprio da Zeman che sarà ricoverato sabato come abbiamo già scritto ieri sul nostro sito www.retto.it alla clinica Pierangeli, lui è monitorato costantemente giornalmente dal dottor Stefano Guaracini del primario di cardiologia ricoverato per accertamenti da sabato mattina, l'ipotesi intervento chirurgico è piuttosto concreta però le condizioni di Zeman non sono preoccupanti, naturalmente tutto questo è legato Marina all'ischemia transitoria di due mesi fa si è ripreso il tecnico Biancazzurro, ha saltato un paio di partite, una per influenza, in totale tre naturalmente domenica non andrà in panchina a Pesaro bisognerà valutare, ci saranno questi accertamenti però sembra davvero concreta l'ipotesi intervento chirurgico alla carotide la società ha smentito contatti con altri allenatori vedremo insomma quello che succederà perché se così fosse Zeman dovrà osservare un periodo di riposo in caso di intervento chirurgico per quanto riguarda invece Merola, meno grave del temuto il suo infortunio, c'era stato uno scontro di gioco con il portiere della Spal martedì scorso tra l'altro il Pescara era riuscito a conquistare un calcio di rigore lo stesso Merola era stato bravo nella circostanza poi fallito da Cuppone sembrava potesse trattarsi di una distorsione al ginocchio in realtà una forte contusione due giorni di stop e domenica a Pesaro potrebbe esserci Merola quindi una buona notizia rientrerà anche Brosco dalla scolifica c'è il rientro di Di Pasquale che aveva accusato un mal di schiena non ci sarà invece Alloi che è stato fermato per un turno dal giudice sportivo ricordiamo Vispesaro Pescara domenica prossima alle 20.45 Parliamo di Pineto? Pineto, devo dire intanto che insomma con il nuovo allenatore Roberto Beni il Pineto ha colto una vittoria importantissima di inestimabile valore sul campo del Ponte Lera un campo tutt'altro che agevole tra l'altro contro una buona squadra una delle migliori per qualità di gioco del G1B 3-2 il verdetto finale martedì scorso abbiamo trasmesso in diretta questa partita abbiamo detto primo successo alla gestione Beni in totale sono 4, 2 punti 4 partite e domenica il Pineto giocherà alle 16.15 contro l'Olbia che naviga nei bassi fondi della classifica il Pineto è tornato in piena zona playoff con altri 3 punti si avvicinerebbe di fatto alla salvezza con prospettive comunque molto ma molto interessanti